Vi è mai capitato di provare un profondo disagio partecipando ad un corso oppure studiando un libro di trading perché la soluzione che ci veniva propinata risultava inutilmente complessa, o talmente complessa da non riuscire a rafferrare la logica che c'era dietro? A me è capitato un sacco di volte e ho capito questo. Ho capito che la complessità viene utilizzata da chi deve vendere per nascondere quello che è il reale scopo. La complessità viene utilizzata per vendere di più, no? Perché se è una soluzione complessa c'è bisogno di più consulenza. Invece studiando i libri migliori, almeno quelli che mi è capitato di studiare e che mi capita normalmente di condividere, ho scoperto una realtà diversa nel nostro settore. C'è Joe Ross che spiega nel libro Day Trading che la complessità è nemica del profitto. E poi c'è John Murphy che spiega in analisi tecniche dei mercati finanziari che studiamo il passato per conoscere il futuro, ovvero dobbiamo basare l'attività su quei comportamenti che i nostri mercati di riferimento producono, hanno sempre prodotto e continueranno a produrre. Quindi partiamo da una logica chiara. Il passato ci insegna a sviluppare l'attività anche nel futuro, perché i mercati sviluppano eventi che sono riconoscibili e che si ripetono nel tempo. Nulla di complesso, io ho aperto il canale di ricerca proprio per condividere questi eventi e darne visibilità, o almeno gli eventi che io ho trovato per il mio trading, ma i mercati sono ricchi di eventi di questo tipo che noi possiamo sfruttare a più riprese per vari obiettivi. Quindi io spiego un po' il mio sistema, quello che ho imparato e altri potranno trovare altri eventi da poter condividere. Quindi una soluzione semplice, intuitiva. Il mercato ha sempre prodotto certe cose, le andiamo a studiare per capire come si forma quella base e come quella base è in grado di produrre delle reazioni. Consultate il canale di ricerca in modo da approfondire questo tema. Gioros riporta nel libro Day Trading una simulazione su carta formidabile. Si chiama il metro del velo trend, pagina 296 se ricordo bene. E lui riporta questa simulazione su carta dove appunto mostra un pezzo di mercato e mette in opera su quel pezzo di mercato un sistema di trading molto molto semplice. Qualcosa di veramente di banale, intuitivo, che porta però dei risultati. E ha sempre portato dei risultati perché, come lui spiega, si basa sulla realtà. Se noi lavoriamo sulla realtà che nel mercato è in grado di produrre, saremmo in grado anche di portare avanti quella gestione nel corso degli anni e tutto questo contribuisce a sviluppare una continuità. Il nostro trading si deve basare su qualcosa che funziona nel tempo, non su un colpo di fortuna di una volta. Chiaro. Quindi dobbiamo studiare soluzioni semplici per operare rispettando i vantaggi e i limiti dei nostri mercati di riferimento. Tutte le volte in cui ci vengono propinate soluzioni inutilmente complesse, ci dobbiamo ricordare che la complessità è nemica del profitto. Tutte le volte che abbiamo a che fare con qualcosa di complesso lo possiamo scartare a priori perché non ci serve. Ci servono eventi riconoscibili sui nostri mercati di riferimento che possiamo studiare e utilizzare come base per la nostra attività di trading. E poi, sulla base di questi eventi riconoscibili, possiamo sviluppare soluzioni di trading semplici, intuitive, in grado di sfruttare ciò che il mercato produce nelle sue varie fasi. Nel video che ho fatto ieri, ho spiegato proprio la differenza fra le condizioni di mercato in trend, le dinamiche di mercato in trend e le dinamiche in congestione. E come il mercato, come i mercati sviluppano condizioni diverse e come noi dobbiamo adattarci a queste condizioni diverse. Vedete, logiche, qualcosa che noi possiamo, una logica chiara, cioè qualcosa che noi possiamo osservare, comprendere e, come dire, rispettare per poter produrre un'attività di trading sana, poco rischiosa. Ok? Quando Gioros spiega che le soluzioni semplici ci sarebbero soluzioni semplici per operare, si riferisce anche al rischio. Cioè le soluzioni devono essere semplici, intuitive e anche a basso rischio, perché se sono a basso rischio, saranno in grado di produrre nel tempo. Se invece abbiamo a che fare con soluzioni rischiose, le soluzioni rischiose non durano nel tempo, hanno una vita molto, molto limitata. Dico questa cosa e l'abbiamo concluso. Per poter mettere in opera delle gestioni poco rischiose, che funzionano nel tempo, abbiamo bisogno anche dei mercati che pongono le basi per un'attività di trading poco rischiosa. Non tutti i mercati pongono le basi per un'attività poco rischiosa. Ok? Cioè il trading è rischioso di per sé, ma certi mercati si pressano un'attività poco rischiosa. Cioè l'attività noi possiamo renderla poco rischiosa se i mercati configurano dei comportamenti sistemici. Esistono dei mercati che sono emotivi per la maggior parte del tempo e non vanno bene per il nostro trading poco rischioso che dura nel tempo. Tutti i mercati e le criptovalute che vanno molto per la maggiore in questo momento sono mercati giovani. Tutti i mercati giovani sono sempre stati emotivi per la maggior parte del tempo. Hanno bisogno di tempo. Fra dieci anni, se questi mercati si strano ancora, probabilmente avranno consolidato dei comportamenti sistemici. Per il momento non ci sono. Quindi non abbiamo bisogno di mercati rischiosi, non dobbiamo mai seguire soluzioni complesse perché non hanno grandi fondamenti. Dobbiamo lavorare su eventi che siamo in grado di riconoscere e che si sviluppano nel tempo. Io, proprio per fare uno sforzo e per fare qualcosa di utile per chi si avvicina a questo settore, ho aperto anche il canale di ricerca. Date un'occhiata al canale di ricerca. Lì ci sono i comportamenti sistemici che io studio per la mia attività, che sono in grado di riconoscere, sono in grado di studiare in modo che possiate sia sfruttare quegli eventi eventualmente sia comprendere un sistema per trovare eventi vostri. Il mercato, i mercati sono pieni di eventi che sono riconoscibili, che si dipendono del tempo e che potete utilizzare come base per la vostra attività di trading. Ok? Rifletteteci, insomma. Questo è quanto. Buon lavoro e presto.